Capitano Luca Albertini, un 3-2, finalmente tre punti e un gol che ha sbloccato il nostro capitano anche a livello psicologico. Certo, sì, sì, no. Sì, a livello psicologico è importantissimo, però è più importante aver portato a casa i tre punti. Assolutamente, però. Perché oggi era fondamentale per noi, per il morale, per lo spogliatoio, poi si arriva anche la... L'apprezzazione del personale. Esatto, è importante che per me, perché insomma, l'ultimo periodo è stato un po' pesantino, però anche grazie alle persone che ho intorno, che mi vogliono bene, sono riuscito a ritornare. Siete comunque un bel gruppo, voglio dire, giovane, nuovo, ma piano piano, dicevo anche in un'intervista che hanno fatto a me, stiamo arrivando, i frutti piano piano li raccogliamo. Il gruppo è poeso assolutamente, al 100%, siamo anche amici oltre che compagni di squadra, è quello importantissimo, e abbiamo un potenziale secondo me che piano piano con il mister dobbiamo cercare sempre di migliorare, perché la squadra oggi deve essere il punto di partenza per il nostro percorso. Grazie. Assolutamente. Ti lascio godere questa vittoria e il tuo gol che ha sbloccato un po' anche te, e ci vediamo domenica prossima. Grazie capitano. Grazie, ciao. Grazie.